L'ex presidente del Terramo Calcio e gestore dello stadio Bonolis, Franco Iachini, torna ad intervenire sulla querelle legata alla gestione della struttura di Piano Daccio. Lo stadio Bonolis, la casa del Terramo Calcio, è il centro di una complessa trattativa tra il comune e il gestore dell'impianto, che lo gestisce dal 2019 tramite la società Soleia SRL. Io ho fatto tutto quello che potevo fare, che erano le mie possibilità, mi sono messo anche a fare la banca, che non è il mio mestiere, dando la possibilità di pagare in dieci rate il rimborso dell'indennizio che riteniamo congruo per lasciare una convenzione che ad oggi scala il 2041. L'amministrazione evidentemente non la pensa così, ritengo a questo punto l'unica cosa che posso pensare è che non ha voglia di chiudere l'operazione. L'arbitrato è già ripartito, sono state già presentate le memorie e considerazioni da parte dei nostri legali, adesso il comune avrà diversi giorni per fare le controrepliche e dopodiché l'arbitrato prevede che a questo punto i giudici, credo, possano decidere di nominare un consulente tecnico per valutare la nostra proposta. Al termine nel quale faranno il lodo, il cosiddetto lodo, quindi diranno chi ha ragione e chi non ha ragione e si chiuderà. L'impianto, ricordiamo, comprende anche una parte commerciale ed è oggetto di una convenzione stipulata nel 2006 e che presenta diverse criticità. Da anni infatti lo stadio è motivo di critiche, proteste e polemiche da parte della tifoseria biancorossa e della cittadinanza. Presidente, però cosa vuole dire alla città e ai tifosi? Beh, voglio dire che stiamo perdendo solo tanto tempo e purtroppo io l'ho perso a discapito economico mio, della mia famiglia, della mia azienda, del mio tempo, perché queste cose mi fanno perdere tanto tempo, concentrazione sul mio lavoro e quindi questo mi dà fastidio. Se si decide di fare un percorso, questo percorso si fa, si sanno quali sono le regole e si deve finire. Non si può arrivare all'ultimo momento a fare sempre gli stessi giochi e ah, rinviamo di nuovo la palla avanti, come ha fatto per oltre un anno e mezzo sull'arbitrato. L'ha fatto anche in questa occasione. Io, come ho detto all'inizio, ero veramente convinto che questa volta ce l'avremmo fatta, perché mi sembravano assolutamente ottimi i propositi di chiudere la vicenda, almeno così, dalle cose. Però evidentemente, dici una cosa e ne fai un'altra. L'ha fatto anche un'altra.